Dal 23 al 25 maggio torna Officina L'Aquila all'editorium del parco con tre grandi novità annunciate in conferenza stampa e in comune. Officina L'Aquila che cambia pelle ogni volta e cambia come cambia L'Aquila e la sua ricostruzione, non solo gli aspetti tecnici ma anche la persona al centro, ad organizzare come sempre a Carza in collaborazione con Ance Abruzzo, Ance L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e con tanti partner, tra cui Fondazione Carispac. Nell'edizione di quest'anno si dialogherà anche con il nuovo cratere del terremoto, aprendo un dibattito, ci saranno i presidenti delle camere di commercio di Rieti, Ancone e Ascoli, come i sindaci di Amandole e Camerino e sovrintendenze dei territori. Ci saranno anche concerti e un'anteprima di Officina Fest nell'ultima giornata a Palazzo K. Cappelli. Faremo una serie di incontri con le sovrintendenze, con le Ance, con le Camere di Commercio, su quello che sta accadendo altrove per portare l'Aquila come modello di riferimento nella ricostruzione anche del nuovo cratere. Altro elemento di novità è quello che facciamo un'anteprima Officina dell'Aquila Fest. Con il rientro in città stiamo avviando, in questo caso faremo dei concerti all'interno dell'auditorium e poi nel Palazzo K. Cappelli il venerdì sera, per incominciare a lanciare un rapporto, un rientro all'interno degli edifici attraverso concerti e iniziative culturali. L'ultima novità è il racconto dell'Aquila, una pubblicazione che si vuole realizzare in occasione del decennale, il prossimo anno del terremoto. Anche per questa edizione ci sarà la visita nei cantieri nelle tre giornate e l'educational tour per i giornalisti. 19 saranno stranieri. Si potranno visitare la chiesa di San Silvestro, quella di Santa Maria di Misericordia, Consorzio Sant'Emilio, aggregato Biantinori, Consorzio Castelletta, Cantiere San Basilio e Consorzio Carispac. Obiettivo riportare anche l'attenzione sulla stampa internazionale. Ci sarà la possibilità di visitare anche i laboratori del Gran Sasso. Questo racconto di una L'Aquila che si è già modificata e si sta già modificando comincia a prendere un ruolo più centrale anche all'interno di Officina L'Aquila. Questa è la vera novità di quest'anno appunto che accanto alla questione tecnica ci saranno le persone che poi concretamente stanno cambiando questa città. Tutto questo, la nostra grande ambizione per l'anno prossimo, per il decennale, è arrivare alla realizzazione di un volume che insieme ovviamente al processo di costruzione sia capace di raccontare quello di cui stiamo parlando e di cui ci siamo occupati in questi anni, cioè di come l'Aquila è tornata già alla vita e di come in questo processo sia determinante, secondo me centrale, il ruolo dell'università e il ruolo di l'Aquila, città della conoscenza.